Le prossime facce di bronzo che vedrete sono i nostri tre eroi. Il mio eroe americano! Appena da una notte a Parigi e già conosco una ragazza come questa. E questa è la mia famiglia. Cinque orfanelli francesi, ecco la nostra causa. Ete dei lari, degli impostori. Volete dirmi cos'è tutta questa storia? Certamente, se voi mi ascoltate. Ok, ok. Tre americani a Parigi, martedì alle 20.55.